Oggi gita turistica a Prato, qui siamo in via di Fosso, stanno ripercorrendo diciamo il giro turistico da Iolo, poi vanno a Casale, Vergaio, poi vanno per il Monteferrato, passano a Garcete e ritornano ai Maralotto con lato busse E' una gita turistica diciamo molto apprezzata dagli stranieri Sanno una sega a Venezia, beh facile andando in canale, vai vai per il Bisezio Gli è più periodoso perché c'è anche le Pantegane Comunque lungo questo diciamo tratto turistico Alfredo Binda c'è anche diciamo un mercatino ecologico naturale Con souvenir che vengono dai Marocco o dalla Columbia, tipo una sorta di spacciatori Comunque vabbè a parte questo, e diciamo questo ragazzi, questo gli ha studiato, questo gli ha preso il brevetto Il patentino all'S lunga, non l'ha preso, vedete che classe, ah lui va sopra, è facile, facile Loro gli manda sotto, dicevi caratteristiche, tutta a fare fuori ai Ponte Marcio Comunque, vedete che classe ragazzi, questo gli è un samurai, questo gli è un samurai di macronotto Ma che si scherza davvero, ma che si scherza davvero, vedete Allora, 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 allora Allora, a tutti bravo, eee, grande, a fare la foto su Instagram, su Facebook, subito Allora al destra potete camminare le capanone di Planta Moda Sulla sinistra vedere le capanone di Talario Tessitola Grazie, grazie, che spettacolarità Grazie